Spara a delle tortorelle posate sul filo elettrico di tensione e viene tolta la corrente in tutto il quartiere. E' quello che è accaduto giorni fa a Lucrezia di Cartoceto, nello specifico in via Madre Teresa di Calcutta, dove un cacciatore ha sparato a degli uccellini provocando la rottura del filo di collegamento che dalla centrale genera elettricità in vasta zona. I diversi colpi di fucile hanno danneggiato e perforato il filo lungo quasi 100 metri provocando disagi ai residenti. Per diverse ore è venuta a mancare la corrente elettrica nelle abitazioni, oltre la paura dei cittadini dopo aver sentito diversi spari a poca distanza dalla zona residenziale. L'episodio che giorno si è verificato? Domenica mattina, domenica mattina ci siamo svegliati prima delle 8 con degli spari che si sentivano vicinissimo a casa. Siamo usciti, più o meno tutta la via, tutti i residenti qui e abbiamo visto che c'era un cacciatore a poche decine di metri dalla strada che sparava ai pochi uccellini che ci sono qui. Insomma l'abbiamo mandato via dicendogli a voce di allontanarsi che stava dando fastidio a tutti e questo ha preso è andato via. Poi nel tardo pomeriggio è andata via la luce, il cavo lì proprio sotto dove stava sparando la mattina ha fatto un grosso rumore, una fiammata e siamo rimasti senza corrente per due o tre ore. Da come ci raccontano i residenti è stato attivato il numero verde dell'Enel che subito ha provveduto al ripristino. Il filo elettrico è stato sostituito completamente nella giornata di ieri in quanto riportava un danno ingente alla linea. Il cacciatore è stato individuato dai carabinieri.